Dal 2 al 4 marzo a Roma, presso l'auditorium Parco della Musica, si terrà il 41esimo congresso nazionale Lega Copp. Unico candidato alla presidenza nazionale, Simone Gamberini, bolognese, attuale direttore CoppFond, che racconta quali sono gli obiettivi della cooperazione per il 2023. Quali sono le parole fondamentali per il suo nuovo incarico? Abbiamo costruito un percorso che ci ha portato a definire il documento per Lega Copp nazionale su tre concetti chiave. Uno è omologazione, noi non vogliamo omologarci agli altri modelli di impresa, siamo un modello di impresa che mette al centro le persone, l'interesse dei soci e la comunità. Competenza, perché noi abbiamo bisogno di un'associazione che è ricca di competenze, che è in grado di essere un supporto, un'opportunità per le imprese che rappresentiamo. E sostenibilità, perché pensiamo sia la sfida del futuro, non c'è solo narrazione, ci deve essere concretezza nel concetto di sostenibilità, nel come trasformiamo e riorganizziamo le nostre imprese per fare diventare imprese cooperative sostenibili. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!